Ovunque in Italia c'è un Conad e ogni suo socio è un imprenditore che per il proprio lavoro non dorme la notte che sulla qualità non chiude mai un occhio e sulla convenienza poi è sempre il più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Conad, persone oltre le cose.